Benvenuti a CronoVisioni. I segni lasciati dal tempo. Una mostra fotografica straordinaria che cattura l'anima mutevole del tempo attraverso l'obiettivo incantato dei nostri fotografi. In questa esibizione, unica, ogni scatto è un frammento di tempo sospeso, un'istantanea che ci permette di esplorare i ricordi, le emozioni e le trasformazioni che il tempo ha impresso nel paesaggio umano e naturale. Attraverso la magia della fotografia, vi invitiamo a viaggiare attraverso le epoche, ad esplorare luoghi, intrisi di storia e a contemplare i segni indelebili che il tempo ha lasciato su di loro. Ogni immagine è una finestra aperta su mondi passati, presenti e futuri. Una testimonianza della nostra connessione, profonda con il fluire inesorabile del tempo. Preparatevi a essere rapiti da CronoVisioni, dove ogni scatto racconta una storia senza tempo e ogni momento cattura l'eternità dell'istante. Il tempo è un grande autore, trova sempre il perfetto finale, Charles Chaplin. Ecco le fotografie dei nostri soci. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.